Dopo la clamorosa spaccata nel centro di Broni di una decina di giorni fa, altre segnalazioni di furti o tentativi di effrazione sono giunte alla nostra redazione. L'ultima in ordine di tempo arriva da Stradella, dove in un appartamento di Via Rocca alcuni malviventi sarebbero riusciti ad introdursi in una casa dopo aver spaccato una finestra, mettendo tutto a suo quadro e arraffando quanto possibile i banditi. Cappellini sportivi in testa sarebbero stati filmati grazie alla videosorveglianza privata dell'abitazione. Sono in corso le verifiche delle immagini circolate sui social nelle scorse ore, ma segnalazioni di tentativi di intrusione arrivano anche dall'alta collina fra i comuni di Colli Verdi e Monte Calvo Versigia. Le indagini sono in corso per risalire all'identità dei malfattori. Gli episodi hanno creato anche una certa apprensione fra gli abitanti della zona.